Registra questo appuntamento, giovedì 14 dicembre alle ore 20 in corso Umberto I d'Avellino inaugura Spacca Napoli Trattoria e Pizzeria. Dopo tre giorni alcuni degli ex parcheggiatori che presidiano per protesta l'ingresso di Palazzo di Città sono stati ricevuti dal sindaco Fote e dal comandante della Polizia Municipale Arbonio. Un incontro di pochi minuti e nulla di fatto, solite promesse hanno sottolineato i manifestanti e intanto la disperazione sale alle stelle. Ai sei ex parcheggiatori che hanno proclamato lunedì lo sciopero della fame si è aggiunto anche Ivano Ferri, da 20 anni seguito dai servizi sociali. Una storia difficile quella dell'ex parcheggiatore di Piazza d'Armi, una vita a immagini che rischia di finire pericolosamente per strada. Allora ci sta una delibera, quando ha fatto il Consiglio Comunale aveva detto e sta per iscritto che quando andavano in funzione i parcomidi dovevamo lavorare affiancati vicino agli operai dell'ACS. Niente, niente, niente. Vedete voi come dobbiamo fare... Tu da qua non ti muoverai come... No, no, sono anche malintenzionato a passare i giorni tristi. Natale per me non ci sarà, ma neanche per le loro famiglie. Insomma, diventa ancora più disperata la protesta. Ma io te lo dissi perché come noi ci sono altri operai che stanno peggio di noi. Chi è seguito dai servizi sociali, chi non si può muovere per problemi suoi. Tu mi conosci troppo a bene, comunque non c'erano fisicamente... Noi sono arrivati al Tribunale a lavorare da anni. E che fine ce l'hanno fatto fare? Noi hanno detto non vi preoccupate, vi faremo andare a finire in mezzone vicino all'ACS a fiancato a fare custodierie. Noi ci hanno fatto tutti i suoi parcheggi e non ci hanno dato niente più. Niente. Uso e getto. Uso e getto ce l'hanno fatto. Ubaldo, come è andato l'incontro con il sindaco? Sempre le solite cose. Dici che ha le mani legate, che non si può muovere e che non ci sono soldi per poter fare tutta una cosa. Perché è una cosa amministrativa, non è una cosa privata che può fare tante cose. Poi ci sono alterati un po' gli animi, qualcuno di noi, e già voleva chiudere tutto il coso. E ha detto gentilmente, sediamoci a tavolo con tutto il comandante e ne parliamo. Voi risponete le cose vostre, io rispondo le cose che mi hanno detto. E siamo arrivati a ragionare. Lui ha detto che il bando ce l'ha già pronto, che il 18 c'è al par di Salerno. Questa cooperativa gli ha fatto il ricorso. Però sono sicuri che il ricorso che ha fatto la cooperativa non va in porto. E allora dal 18 in poi già entra con le cose.